isole borrome con il nostro capitano se la posso disturbare buongiorno ci stiamo avviando verso le bellissime isole borrome prima tappa la prima tappa qual è l'isola madre con la cooperativa cma che è il consorzio motoscafisti associati che si occupa appunto di trasportare da stresa tutti gli interessati alle isole borrome ovvero ho detto isola bella isola madre e isola dei pescatori quanti minuti abbiamo da stresa e io mi senti oggi puoi andare avanti che non c'è la gru porio si 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 pochi minuti quindi da stresa per raggiungere la prima isola si 6 o 7 minuti 6 o 7 minuti siamo lì proprio quindi pronti poi ogni ora dalla prima isola ci si sposta quella dei pescatori si si è libero tutto il giorno fino alle 6 c'è continuamente le barche che girano di ogni ora ogni ora ogni mezz'ora nel pomeriggio quando i pescatori chiaramente all'ultima isola si rientra a stresa quindi quanto dura comunque mediamente una una visita delle tre isole il minimo il minimo calcolare un'ora un'ora e mezza all'isola madre altrettanto all'isola bella poi alla pescatori uno decide cosa vuol fare può essere stare là a mezz'ora può stare là a pranzo è libero tutto il giorno ovunque sulle 4-5 ore gira tranquillamente le tre isole e diciamo che vale la pena